paolo ciao buongiorno qualche parola su di te quello che fai all'ambito del 3d ok in questo momento sto lavorando per un'azienda indie videogiochi e mi occupo di personaggi 3d character artist si dice formalmente altrimenti per chi non è del settore faccio i pupazzi per videogiochi allora io dai ormai è da tempo che sono nel settore in realtà sono questa azienda da almeno sei anni e ho imparato veramente tanto in questi anni è una cosa che spingo sempre a dire che quando entrate nel mondo del lavoro non vi sentirete mai sicuri di sapere tutto e tuttora io non non mi sento così completo come come 3d artist ma una cosa che imparerete sempre con l'avanzare del tempo cioè non non scoraggiatevi mai nel momento in cui vedete che quello è l'obiettivo e non vi sentite di raggiungerlo perché è qualcosa che non raggiungerete mai realtà non vi sentirete mai arrivati però ecco io sono specializzato nell'ottimizzazione dei personaggi per motori real time in questo caso real engine 5 e nonostante i processi vengono sempre più semplificati è comunque un qualcosa che va sempre fatto all'ottimizzazione non c'è niente da fare quindi ottimizzazione ovviamente si parla di ottimizzazione poligonale quindi un po' la pipeline nel senso parti da che cosa per arrivare a allora l'ottimizzazione in realtà si parla un po di a 360 gradi per quanto riguarda appunto il poli count ovvero il numero di poligoni deve essere molto ridotto rispetto a quello che si fa su zbrush e anche l'ottimizzazione nel livello di texture quindi non utilizzare texture 4k ottimizzare tutto quello che è in memoria mentre si gioca grazie perché ho scoperto avere texture 4k ovunque su wear pool è stato fantastico in area 5 scattava una cucina faceva due fps esatto quello ma anche nei materiali che si fanno in area c'è c'è molta ottimizzazione da fare ed è una cosa che a me piace molto perché essendo appassionato di videogiochi sin dal da tenere età ho sempre visto degli effetti che vedevo in computer grafica emulati in real time e ho visto sempre che c'è una soluzione per raggiungere delle cose perché logicamente il calcolo real time deve essere lo dice la parola stessa in real time quindi non si può permettere un rendering di diversi giorni e arrivare al risultato esteticamente bello con delle soluzioni molto incastrate tra di loro è una cosa che mi affascina molto e questa cosa appunto oltre a stare appresso alla tecnologia che va avanti ma è una cosa che si apprende sbattendoci la testa tra l'altro riguardo questa cosa mi avevi detto cioè tu come formazione da dove parti cioè i tuoi anni formativi sono stati di allora io ho studiato la rainbow perfetto e l'indirizzo non era real time era quello della computer grafica ma la rainbow a me ha insegnato l'abc che è stato fondamentale per quanto alcune cose magari non le utilizzi più sono comunque delle cose che tornano sempre utili nel momento in cui devi scontrarti con il problem solving un esempio caliente un esempio caliente sul character ad esempio ad esempio il rigging il rigging perché io attualmente mi occupo non l'ho detto prima ma del personaggio dal concept all'animazione ogni faccio tutto il processo di creazione del personaggio e il rigging torna alla rainbow ci hanno insegnato come farlo da zero adesso magari tramite alcuni tool riesco ad evitare certi processi ma si torna sempre all'abc sempre perché nel momento in cui tu hai un problema non c'è devi capire come funziona qualcosa l'abc è fondamentale è questo che io spiego a tutte le persone che cerco di spiegare a tutte le persone che si addentrano nel settore ovvero che alcune cose sembrano troppo macchinose come rigging o le ovvi perché dicono sempre sento sempre ma non c'è un modo per farlo automatizzato c'è ma non è il controllo l'importante avere il controllo e la coscienza di quello che stai facendo e quindi quando entrate in un percorso formativo cercate sempre di capire la base di ogni settore e vi tornerà sempre utile questa cosa sempre non vi spaventate perché comunque se sbagliate non è la fine del mondo c'è sempre la sperimentazione ci deve essere sempre la sperimentazione e non date retta a quelle persone dicono ad esempio fanno vedere il modello finito dicono l'ho fatto in un giorno ma io volevo proprio arrivarci allora aspetta un attimo allora posso mi appunto una roba allora abc perfetta basi molto chiara anche perché secondo me il problem solving e ti chiedo conferma di questo probabilmente ce l'hai solo se hai chiaro in mente cosa sono i mattoni di base per andare a risolvere il problema uno due il discorso delle tempistiche io veramente vedo sempre delle cose incredibili come i tuoi lavori e mi domando grazie ma quanto ci impiega una persona in media in medio che adesso lasciamo stare che tu tra l'altro poi era interessante quello che avevamo ci siamo anche conosciuti da prima e mi avevi detto che tra l'altro il fatto di aver operato in un'azienda indie molto piccola ti ha permesso piuttosto che lavorare un'azienda tripla appunto di poter affrontare tutti i passaggi della creazione di character quindi sviluppare questa capacità di problem solving di arrivare dall'inizio alla fine a livello e quindi a livello formativo la cosa è non plus ultra ma quello che volevo chiederti adesso è ma quanto ci impiega a fare un character cioè nel senso partendo dalla scultura quindi dall'inizio fino alla messa ad esempio in Unreal con un po di animazione ok allora c'è da dire che quando si fa un character per lavoro per forza di cose dei tempi devi stare nei tempi che ti vengono imposti logicamente se sono cose assurde sfori e non c'è niente di male perché per fare le cose bisogna farle con il tempo profumo di positività quello sempre perché vedo troppa negatività nel settore troppo terrorismo psicologico però eh se lo faccio per lavoro logicamente devo accelerare i tempi ottimizzare il workflow in modo di avere almeno un modello base finito in poco tempo che potrebbe essere anche una settimana per dirvi ok che è pochissimo però nel momento in cui il vostro titolare vuole vedere un lavoro nell'insieme dovete fare un qualcosa dovete accettare di fare qualcosa non perfetto ok semplicemente che rende dell'idea ma per fare un personaggio completo ci vogliono mesi mesi di lavoro è un qualcosa che va dalla creazione del concept all'animazione e richiede un una lavorazione molto a parte metodica ma deve comunque mantenere attivo il mood del personaggio perché a volte se noi si va di fretta o si saltano delle delle tappe si finisce ad avere un risultato che non comunica niente e quello incide molto cioè i tempi incidono molto su quello in realtà i tempi appunto come dicevo idealmente servirebbero dei mesi io nei miei progetti personali spesso il tempo limite me lo impongo proprio perché al lavoro ho una costante un costante confronto con chi mi chiede i personaggi e non posso dilungarmi più di tanto perché nel mio caso magari fermo una pipeline che è in attesa del mio personaggio e non posso permettermi questo quindi che succede io in una settimana finisco un modello base non propriamente bello però in modo che la programmazione possa prendere il modello così com'è e andare avanti ma io nel frattempo e questo per dimostrare che si può sempre tornare indietro nel frattempo posso migliorare quello che ho fatto e andare a pari passo con cioè non avendo più quel tempo limite posso andare ad alzare quella qualità che prima non mi sono permesso di avere quindi anche questo è importante accettare di dare nel momento della consegna un qualcosa di non completo ma che sia utile ad altri settori e poi tu ti prendi i tuoi tempi per migliorarlo quindi quando si fa un lavoro non è vero che non si può tornare più indietro se tu vuoi subito il personaggio te lo do ma devi accettare che la qualità è più bassa se vi viene pretesa la qualità alta in così poco tempo non state sbagliando voi sta sbagliando chi vi chiede il lavoro perché non sa cosa vi sta chiedendo e questa è una realtà che ho visto in tanti posti di lavoro ora tantissimo ovunque in ogni posto di lavoro chi chi sia ovviamente si applica del anche da noi è così chi si occupa poi della standardizzazione dei tempi che è una macchina matematica un computer umano stile di una capito alla fine alla fine lui calcola lavoro uomo macchina uguale però indipendentemente dalle richieste magari che gli aggiornamenti delle richieste che possono essere molto complesse per chi non è del settore invece vengono semplificate per una funzione di margine diciamo però sta a noi inoltre a me è successo tra le prime esperienze di lavoro nell'ambito appunto del real time dei videogiochi non sapendo i tempi io sono arrivato con ditemi voi quanto vi serve con i tempi perché mi sono dato l'azzarco sui piedi e che è successo che ho dovuto fare un personaggio modellato rigato texturizzato messo in real engine ottimizzato tutto quanto in tre giorni in tre giorni ho fatto questo personaggio che oddio se vado a rivedere non è neanche male però aveva tanti problemi e avevo quasi rischiato il posto di lavoro perché il titolare arriva dice perché questo personaggio ha dei vertici che sono perché lo skinning logicamente l'ho fatto così al volo però ecco è stato anche stimolante perché ho dovuto trovare delle soluzioni molto spartane per arrivare a un risultato del genere però mi sono ucciso e lì mi sono dato la zappa sui piedi perché poi tu dai la dimostrazione che in tre giorni puoi fare quella cosa ed è finita allora non ero l'unico non sono l'unico che si che dove può si tira un pochino il lavoretto avanti per dire respira bene bene ci sta perché altrimenti è finita sì anche perché poi diamo l'impressione che noi abbiamo quella dote no quella dote che noi siamo nati bravi e quindi a me più volte mi è stato detto ah ma tu sei un artista ti viene normale no io ho studiato per fare queste cose non è scontato la qualità tra l'altro te appunto adesso mi ricollego la parola studio no poi se mai andiamo a vedere anche un po dei tuoi lavoretti dei tuoi bei lavori il lavoretto detto così molto dolcino capito no i lavori beh ehm cosa voglio dirti a livello di studio ok tu hai la fortuna tra l'altro di lavorare in una città indie fai character quindi mano a mano che lavori studi tra virgoletta no quindi questa è una grande fortuna però può capitare anche realtà dove la mia dove invece ci si occupa di render di prodotto e di cose meno 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 diciamo accattivanti e quindi la gente si ritaglia il tempo per studiare dopo lavoro nel suo caso dedichi anche del tempo assolutamente io ormai ho due pipeline di lavoro differenti ma perché per me il 3d è una passione cioè io mi diverto fuori lavoro a rimettere mano sul 3d io sento tante persone che lavorano nel settore che non riescono più a divertirsi eh fuori da dal lavoro cioè vengono pagati per fare 3d e fuori da cioè come passione non la vivono più ed è una cosa che secondo me è un po un peccato perché il 3d può essere divertimento hobby creazione comunicazione ed è una cosa che io spingo sempre eh a fare a volte mi obbligo perché logicamente arrivi stanco a casa e dice vabbè stasera mi sbrago però una volta che ti sbrachi è è un peccato non sfruttare le tue qualità a 360 gradi perché al lavoro sono limitato cerco di mettere sempre del mio nei lavori però logicamente stai facendo qualcosa per qualcun altro quindi il concept arriva di solito da concept artist o sono proprio ideati da te allora io adesso un qualcosa una situazione abbastanza positiva al lavoro perché ho finalmente conquistato la fiducia del di chi è più in alto però si discute con i designer su cosa vogliono e cosa io potrei fare quindi là già è più stimolante mentre per quello che faccio fuori da lavoro in realtà io voglio divertirmi ma al tempo stesso studiare quindi penso a un personaggio che mi piacerebbe fare il concept lo immagino tramite un mood che voglio comunicare o il mood voglio dare al personaggio in più metto sempre quel piccolo testello e dico cosa mi qual è la mia lacuna eh il particellare eh rigging espressioni facciali ok facciamo che questo questo personaggio nella sua presentazione perché faccio sempre delle presentazioni video eh a questo particolare quindi quello che consiglio nel momento in cui voi fate il vostro lavoro personale non puntare solo al portfolio perché andrete un po' a ammazzare l'anima di quello che state facendo ma divertitevi a fare qualcosa che non sapete fare mettete qualcosa che non sapete fare nel vostro lavoro che sia appunto 3d eh renderizzato real time o anche che ne so la la stampa 3d fate sempre qualcosa che abbia come obiettivo un qualcosa che comunica allo spettatore anche per chi non è del settore deve essere accattivante quello che state facendo e un qualcosa invece che vi stimola a studiare a aggiungere quel tastello in più e vi ritroverete a finire il vostro progetto e avrete imparato un qualcosa in più senza che ve ne sarete resi conto cioè quella è la cosa che mi fa imparare di più e mi stimola di più ad andare avanti perché altrimenti se voi fate 3d soltanto a livello lavorativo tornate a casa stanchi e vi si spegne la fiamma è quello è un peccato quella la fiamma dobbiamo accenderla la fiamma dobbiamo accenderla la fiamma è un insegno di quelli pesanti questo perché poi è una cosa che ho ritrovato in questo gruppo shortcut io vi faccio i complimenti perché voi puntate proprio su questo ed è importantissimo perché vedo tanti tante new entry che neanche hanno iniziato già sono scoraggiate ed è bruttissima questa cosa sono scoraggiato perché quando senti chi parla del settore è come un po se devono tutti ingigantire quello che fanno e renderlo come settore per pochi non è per pochi potete entrare tutti potete entrare tutti potete imparare e non è vero ad esempio per farvi l'esempio di questa persona che mi ha contattato che si è scoraggiata perché le hanno detto tu non puoi entrare nel settore perché non sai disegnare prima fa un corso di disegno è una cosa che non è vera cioè non assolutamente il disegno è un nostro settore se poi mi parli di creatività la creatività non è che la impari con un corso la creatività devi avere ti si espande nel momento in cui tu hai coscienza di quello che sai fare e l'esercito tra l'altro è un skill che può aumentare e partire da zero sotto zero nel senso quindi non è una cosa a cui arrendersi assolutamente poi tra l'altro su un comparto tecnico come quello del 3d che di base c'è molto di quello che è necessario c'è tutto il tempo e lo spazio per farla crescere per farla diventare tua tra l'altro uno secondo una freccia al tuo arco ascolta domandona 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 io ho visto l'ultimo lavoro l'ultimo lavoro che hai fatto che era quello che ho visto sul gruppo 3 di artisti italiani mi era piaciuto tantissimo domandona quanto ci ha impiegato tutto da solo intanto sì tutto da solo sì da l'inizio allora questo è il lavoro che mi ha segnato di più semplicemente perché tra covid eventi personali mi ha praticamente bloccato artisticamente ero caduto in quel limbo in cui dicevo prima in cui non riuscivo a mettere mano nel 3d fuori lavoro ogni personaggio mi ha portato mesi di lavoro e tutta la lavorazione ha un tempo complessivo di tre anni perché non riuscivo più a rimetterci mano sopra ed è stato un percorso di recupero dello della fiamma che è stato devastante per me questa cosa mia mi ha fatto crescere sia a livello di sicurezza personale e sia a rivalutare un po tutto l'ambiente del 3d perché una cosa che ha inciso molto nella mia insicurezza perché in sicurezza si è trattata è stato anche l'ambiente del dei social vedere altre community 3d e vedere atteggiamenti molto tossici questa cosa è è stato un peso per me perché diciamocelo quando tu pubblichi un lavoro vuoi sentire vuoi vedere un po di esaltazione nelle persone o trasmettere quello stimolo magari una persona ed è appagante non dico il complimento ma vedere che trasmetti un qualcosa quello è il goal che mi era imposto quando vedevo sui social l'esatto opposto ovvero la gente che entrava per demolire le altre persone questa cosa mi ha chiuso quindi anche la condivisione di per sé ci ha rimesso molto è molto difficile e mi sono molto chiuso e ho lasciato perdere per tre anni i lavori personali non mi sono chiuso totalmente perché al lavoro in realtà sono cresciuto molto in realtà ho imparato tante cose e in quest'ultimo mese ho ritrovato un attimo la forza anche grazie a piccole luci che vedevo nei social queste persone che si anche neofiti che si mettevano e pubblicavano e vedevo che ancora c'era qualcosa quindi ho ripreso la pallabalso e l'ho completato l'ho chiuso ho ridimensionato tutto il progetto che avevo perché era troppo ero solo e mi ha fatto pensare anche che il 3d è bello con la condivisione con la condivisione e anche magari con la collaborazione perché il bello che il 3d è fatto di tanti settori differenti ed avere la mano o la collaborazione con altre persone è qualcosa che ti può stimolare di più quindi magari la prossima volta se riparti da zero con un altro maxi progetto come questo hai c'è da modellare qualche asset qualche prop e darti una mano possiamo saltare anche noi sulla nave assolutamente proporti dei piccoli block out di oggetti e vedere cosa ne pensi quindi io attualmente sono ripartito già perché non sto sfruttando la fiamma e la sto bruciando tutto sono ripartito ma ho coinvolto un mio amico per quanto riguarda dei piccoli props che aveva studiato 3d si è scoraggiato e al mollato il settore e piano piano cerco di farmi capire sì e vedo che lui si sta riaccendendo questa passione ed è una cosa che per me è importantissima ma non perché dà una mano al mio progetto ma perché vedo una persona brava perché è brava riprendere il settore ed è una delle cose che mi stimola di più questa quindi tra l'altro tutti quelli che ci ascoltano in questo momento che ci ascolteranno speriamo che cresca sempre di più e allora siete chiamati anche a postare pubblicare il più possibile assolutamente ma anche per te vi attivi fate cioè divertitevi facendo nel senso nessuno è qua per dire non sei capace fai schifo cambia anzi siamo qua tutti per crescere cioè dal primo sono io a ringraziarvi perché io quando vedo ad esempio nella in portfolio oppure i lavori finiti o lavoro nel forum del server vedo i lavori che postate a me stimolate tantissimo cioè io vi giuro io vedo delle idee o delle lavorazioni che mi fanno sempre sentire incapace perché la cosa bella del 3d è che ogni persona sfrutta cioè sfrutta stimola il prossimo e crea un proprio metodo di lavoro un proprio stile e il paragone c'è sempre ma è anche bello vedere quando mettete un po' di vostro nei lavori riesci a riconoscere uno stile che ha fatto quella persona perché c'è un po' di suo e per quanto sia whip quello che state postando vedo proprio che magari voi mi immagino proprio voi che vi mettete il pomeriggio dedicate del tempo a fare 3d vi mettete la concura a fare una superficie bella pulita un retopologi o un qualsiasi cosa e vedo che c'è passione quella è una cosa che automaticamente trasmettete nel momento in cui condividete quindi fatelo fatelo assolutamente io ho già visto alcuni lavori e ho d'occhiato non vedo l'ora di vedere come procedono quindi vi prego continuate a postare ed è una cosa che da quando ho scoperto shortcut comincerò a fare anch'io perché è una cosa che stimola parecchio sia me che tutta la community quindi no è una cosa buonissima questa e mi avete riportato l'ottimismo che mi si era spento diciamo che l'idea l'idea era quella fondamentalmente di che ci siete riusciti almeno con me speriamo anche questa cosa cresca ancora c'è l'idea è di mettercela tutta di creare sinergia appunto e si può vedere qualcosina ok sì ma proprio ok ecco qui allora questo come potete vedere in basso c'è il sequencer che ciò che ho scoperto negli ultimi anni che mi permette di fare dei video real time ed è un modulo di a real che serve per creare un po' tutti quei filmati in real time ad esempio che ne so metterghi al solid 1 i personaggi in real time che fanno delle cose con audio regia tagli delle camera e praticamente la la sequenza qui non è altro che un come adobe premiere un montaggio video potete scegliere i camera cats eh oppure del aggiungere del degli effetti animazioni delle chiavi sulle posizioni qualsiasi cosa tutto ciò che vedete qui con questo piccolo simbolino significa che può essere eh può essere animato sì eh un valore se voi volete partire da zero poi finita a cinque secondi a uno mettete la chiave e via dicendo funziona allora qui la cosa che mi piace sempre fare è andare in play in motori di gioco e vedere che tutto è ottimizzato per il real time e io qua tramite eh gamepad posso andare a spostarmi e vedere un po' come funziona ma che figo io qua tramite gamepad posso anche registrare il movimento di telecamera oppure posso andare indietro e eh mettere play e vedere come funziona in questo caso il cielo mi sta dando problemi sta clicciando semplicemente perché sono in modalità gioco più il sequencer in realtà c'è un'altra ottimizzazione andrebbe fatta sul cielo ma non non l'ho fatta perché non ne ho bisogno però l'altro è molto difficile anche ogni tanto ti interrompo così perché metto di mezzo anche la mia nubaggine su un real 5 nel senso che ehm ad esempio noi stiamo trovando una marea di problemi nell'implementare eh la luce dell'atmosfera l'atmosphere perché ho notato che tipo con i materiali riflettenti i vetro e quant'altro scazza in una maniera incredibile cioè è difficile riuscire a creare l'illuminazione che sia credibile come quella che vedo qui ah no infatti non è semplice ma vorrei anche eh aprire l'argomento su sui trailer che escono dei motori grafici perché da quanto fanno vedere sembra un click e fai tutto poi ci metti mano sopra in realtà non è così eh io qui ad esempio come funzionano i filmati che faccio io sono creato in questo caso un ambiente in realtà era molto più complesso il il filmato quindi ci sono tante cose che non ho fatto vedere eh dentro ed è un qualcosa di molto più grande rispetto al filmato che ho fatto cioè hai usato una landscape fondamentalmente sì sì esatto sono molto sono fake queste montagne cioè perché a me serviva un'inquadratura che mi si alzasse da qui a così eh e sai che sta questa cosa qua è incredibile perché la prima cosa che non capivo io del 3d soprattutto era che in realtà è una magia cioè nel senso tu costruisci esattamente quello che ti serve sia per un motivo di di capacità tecnica del mezzo perché per quanto i computer siamo in dati potenti sono sempre limitati però semplicemente costruisci il teatrino di quello che ti serve in base a dove guarda la telecamera c'è questa cosa qua vista così immensa però mi sta gasando a bomba ma più che altro qui c'è tanto lavoro inutile perché poi ho ridimensionato tutto ad esempio queste cose qua dentro io potevo evitarle questi ambienti illuminati da semplicemente da emissive però era una cosa che non avevo calcolato cioè avevo calcolato troppo domanda tecnica a livello di carico della memoria il ogni ogni istanza che tu fai io vedo questi oggetti con gli emissive che sono fondamentalmente delle istanze di uno stesso oggetto di una stessa statica è abbinato i vari colori a livello di peso memoria questa cosa qua è super ottimizzante allora con la real engine 5 finalmente l'emissive può emettere luce in realtà prima dovevi fare un fake ovvero la texture si illuminava tipo questa ma dovevi ficarla con una point light quindi non metteva luce con la real engine 5 finalmente c'è possibile infatti volevo sfruttare questa cosa in realtà non è che lavoro buttato perché ho studiato un attimo come funzionava questa illuminazione è molto morbida quindi non potrei mai avere un effetto da una spotlight con un emissive però ti rende quella variazione di illuminazione ad esempio qua sul soffitto che è molto bella l'atmosfera l'atmosfera esatto esatto e niente poi per la dinamica dei capelli del mantello come vedete si sposta in tempo reale questa questa cosa se io sposto il personaggio si sposta così ho dovuto inventare uno mini script in realtà che non va a toccare il clout tante persone con cui ho parlato mi hanno detto ah mi piacciono i capelli in clout ovvero c'è un modulo di si chiama clout che va a intaccare i vertici che vengono toccati dal vento da un sistema di vento nel mondo e si sposterà in dinamica tutti i materiali che hanno quel clout in realtà non è questo ma è un uno script che ho fatto sulle ossa perché hanno le ossa queste cose che si spostano in dinamica quindi questa è un'ottimizzazione perché il clout va a toccare tutti i vertici e da compene da collisione con ogni poligono a me non serviva questo tipo di di realismo ma serviva semplicemente un andamento un po più naturale esatto anche qui vedete il cielo che cliccia nel momento in cui vado sempre in play però nel momento in cui sto così va ok ed è ed è una cosa che ho studiato con questo personaggio in realtà e mi è tornato utilissimo al lavoro per quindi quando fate che ne so un personaggio un mostro con la bava la bocca è inutile fare il clout anche perché il clout impazzisce se voi fate i movimenti improvvisi i vertici vi schizzeranno al centro del mondo in un attimo mentre così hai più controllo e non c'è problema di stretching e sono tante piccole cose che in realtà ho fatto su questo personaggio ad esempio questo è il fatto di chiederti la texture tra l'altro animata all'interno del materiale in realtà se noi andiamo a vedere com'è fatto il nostro personaggio possiamo vedere questa texture praticamente questo è ciò che risulta dello schermo nelle ov pensate è piccolissimo sì è piccolissimo in realtà perché non mi serviva in realtà qua intorno c'è tutto il resto del personaggio quindi domanda sei riuscito a fare stare in tutto il personaggio in due k di accessori sì ah gli accessori perfetto in realtà non sono poi tanti uv set è anche questa l'ottimizzazione che faccio per il real time qui dentro ho detto proietta lo schermo certo e lì dentro cosa faccio passare faccio passare questa stringa ah in verticale l'ho fatta però che succede tramite questa maschera viene visualizzato solo quando è qui c'è un nodo cos'è il questo text cord ok in cui tramite questi valori posso decidere la direzione in cui esegue un pan della texture e la velocità quindi io non ho fatto altro che dire proietta questa fai scorrere questa texture in verticale ma viene visualizzata solo in questo spazio qui e quindi qui ho questo effetto ed è una cosa che in realtà non è così complessa ma è molto funzionale altrimenti ci sono diversi metodi c'è anche il flip note ovvero fare una sequenza di immagini e l'uv si sposta di conseguenza tramite linee infatti proprio riguardo questo noi ad esempio questo sistema qua l'abbiamo usato per fare le texture dei fumi dentro la cucina perché colleghiamo alla particella un flipbook che fondamentalmente va a ricaricare la sequenza e va bene ed è sempre a verticale sì 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 però questa cosa qui mi sta veramente oh mi sto emozionando è un testolino che gira però è oh sta bene no no ma sono poi a seconda della soluzione che ti serve del risultato che ti serve va a trovare la soluzione adatta e niente è tutto qui in realtà il rigging è molto semplice per quello che mi serviva ma da qui io posso spostare le ossa e queste sono tutte le espressioni che mi servono per la faccia ma da qui sono quasi ingestibili per questo io lavoro un po' più su maglia qui tendo solo ad importare ciò che mi serve tra l'altro ecco questa cosa delle ossa in dinamica può essere molto utile per quanto riguarda dei panneggi che devono fare un loop di animazioni con il clote il loop non non ce l'hai è sempre in costante calcolo quindi è poco ottimizzato e va benissimo è questa una mia è un mio feticcio l'ottimizzazione proprio perché cerco di allenarmi per per lavoro è un punto di ottimizzazione tra l'altro a proposto di ottimizzazione domanda proprio base 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 Unreal 5, tra l'altro, aiuta tutti quanti con l'utilizzo di Nanite. Hai usato Nanite in questo progetto? E soprattutto Nanite, lo ricordo, è un sistema automatizzato di LOD che Unreal mette a disposizione per far sì che, a seconda distanza della camera, gli oggetti in automatico riducano il loro conto poligonale. Fa dei miracoli in realtà, è veramente magia nera Nanite, ma per quanto riguarda i personaggi, no, non si usa, dà ancora problemi e l'ottimizzazione va sempre fatta, anche per quanto riguarda l'environment. Io ho dei colleghi di lavoro, per quanto riguarda i videogiochi anzi, l'unico videogioco che attualmente sfrutta ad hoc e bene Nanite è Fortnite, però è nato prima Fortnite o Nanite? Per quanto ti vogliono vendere il prodotto come un prodotto drag and drop e funziona tutto così, magari lo puoi fare se devi fare dei rendering per architettura, lì va benissimo, ma per quanto riguarda il videogioco è ancora prematuro, ok? Ho visto dei prodotti che si sono rivenduti tramite dei trailer, ma ad un occhio più attento ci sono delle cose che non... No, 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 assolutamente, noi l'abbiamo provato a usare e infatti ti chiedevo per arrivare a capire se l'avevate usato e come l'avevate usato, perché soprattutto su superfici molto riflettenti, per il fatto che spacca e ricostruisce anche tutta la parte delle normali, hai veramente degli artefatti notevoli e soprattutto sui vetri. Sì, adesso c'è questo Lumen o Ray Tracing, che anche questa è una tecnologia che stanno... Vedi i siti dei videogiochi, vedi... Ah, questo gioco utilizza Ray Tracing, poi va a vedere se è attivo o disattivo, non te ne rendi conto, ad esempio Elden Ring, un gioco famoso, ha messo come patch questa cosa del Ray Tracing, si è data una zappa sui piedi, perché dai un calo del framerate assurdo e l'effetto non funziona, perché il gioco non è stato pensato per il Ray Tracing, quindi tu hai un calo dei frame, ma non hai quell'impatto visivo che ci vale la pena. Anche questo da prendere in considerazione. A noi ad esempio il Ray Tracing l'abbiamo implementato, per dire sempre esperienza personale, per dare a una cosa molto semplice, non complessa come la tua, che può essere una cucina, ha un effetto diciamo più realistico, però effettivamente, devo ammettere che spezza, spezza comunque le gambe in termini di FPS, quindi va usato, dosato... Poi dipende, se tu vuoi un qualcosa che giri in real time, devi considerare l'FPS, se lo devi renderizzare in realtà va benissimo, cioè è sempre il fine che conta. No, no, è un'app interattiva, però dopo un po' ti viene da rimettere in un sacchetto di cartone, perché ci fai il giro su te stesso, altro che te che andavi via fluido col tuo paddino e ti vuoi più intorno, c'è il momento che ti sbreghi contro i mobili perché non ce la fai più, vabbè, quindi adesso sappiamo il come mai, grazie mille, ragazzi. No, volevo far vedere appunto questo rigging di cui vi parlavo, un attimo quelli assi invertiti, perché a real, per qualche motivo, ha tutto sulla Z, inverte tutto. In realtà il rig è molto semplice, ho sfruttato il modulo di Human IK di Maya, che è risultato molto funzionale, funzionale, e da qui io però posso gestire i miei blend shape tramite dei controlli che seguono automaticamente la direzione che ho. Ad esempio se voglio qui, segue... ecco, una cosa importante che chiedo a tutti, che dico a tutti i character artist, quando ho fatto righe dagli occhi, non spostata soltanto l'occhio, ma anche un po' la palpebra, è molto più naturale come movimento. E io a volte vedo nelle presentazioni di personaggi questi sguardi dove è solo l'occhio interno che si muove, non la palpebra, è un po' freddo il risultato. Ma infatti una cosa che mi era piaciuta tantissimo, anche nei tuoi lavori che avevo visto, era proprio l'espressività che riesci a dare al character, ad esempio parlo anche quella di Alice, mi era piaciuta tantissimo, cioè il fatto che sia un... e anche lì già usavi questa cosa, cioè il mixare. Sì, 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 ed è poco lavoro, ma fa tanto, la differenza è tanta. E che altro? Quindi non... quello che vorrei trasmettere è un po' quello che si può ottenere con il real time. In realtà è molto, molto divertente lavorare sull'ottimizzazione, ma anche su soluzioni semplici, ma che rendono bene. Ok? Ad esempio questo movimento qui in realtà sono semplicemente il mix tra guarda a destra, guarda a sinistra, guarda su, guarda giù e basta. Non c'è... è sempre un qualcosa di molto semplice in realtà, non c'è bisogno di fare magari la ciglia che si sposta, perché dovete sempre pensare al risultato finale, logicamente i miei lavori, lo dico, non sono i perrealistici. Io cerco sempre di mantenere uno stile che rispecchia un po' il mio stile che avevo del disegno, ad esempio. Cioè a me escono così i personaggi e mi piace mantenerli con questa espressività. se noi vediamo lei, ma anche ad esempio Alice, si somigliano tutti un po'. Cioè io i miei personaggi tendo sempre a puntare sugli occhi. Ma lei tra l'altro in questo caso ha un tratto quasi un po' orientale-asiatico. Sì, sì, sì. Tra l'altro questo lavoro mi ha dato molti problemi con il creatore. Io volevo fare un regalo, un'American McGee. volevo fare una dedica a lui. In realtà lui adesso sta avviando questo crowdfunding per fare il seguito del videogioco, ma ci sta mettendo tanto tempo. Ha visto che in realtà io già ho fatto il modello real-time, non gli è andata giù, mi ha contattato in privato, ha alzato un polverone dicendo non puoi far vedere questa cosa. No! La mia è una fan art. No! Tra l'altro di tutto rispetto. Come se diceva Roma, ha rosicato. Quindi mi è dispiaciuto un po' perché per me era una dedica a lui. È un lavoro che ho fatto principalmente per studiarmi un po' meglio Marvellous Designer, ovvero il vestito e come ottimizzarlo per il real-time. Da qui possiamo vedere che non c'è dinamica del vestito, non era tra i miei obiettivi. Ad esempio qui vediamo una rigidità del vestito, che in realtà nei videogiochi si vede molto spesso questa cosa. e poi mi sono divertito a fare questo environment infinito, tra virgolette. Questa in realtà non è infinito, è un modulo che si collega all'inizio e alla fine, in realtà non va avanti e indietro. È quello il trick. È questo. Inizia e finisce, va avanti, arriva alla fine e torna indietro. Essendo comunque l'inizio uguale alla fine, non si vede questo trucchetto. No, no, aspetta, mi sto perdendo. Scusa un attimo, gira in un senso, poi arriva alla fine e gira in un altro senso. No, continua a girare sempre nello stesso senso. Gira sempre lo stesso, vedi? In realtà, questo non è altro che un trasletto così. Vedi, questo è un modulo. È semplicemente questo. Ah, quindi la cinematica l'hai fatta in Marmorset, quindi? Sì, 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 sì. Io per un periodo, ad esempio Cappuccetto Rosso, Alice, la ragazza anni Ottanta, vi dicendo, l'ho sempre fatti in Marmorset. Perché aveva un sistema di illuminazione che all'epoca era il migliore di Unreal Engine 4. Cioè, a me ci ritrovavo meglio. Anche il gatto qui, come vedete, la densità geometrica è bassissima. Bassissima, infatti. Sì, ha 5.000 triangoli. Però è quel che serve per... è quel che mi serve, in realtà. Non avevo bisogno di ulteriore geometria. Ed ho un po' questo feticeo. Ho una soddisfazione maggiore quando i triangoli sono pochi e il dettaglio è tanto. Sferito, ovviamente, con un po' di texter. Tra l'altro per texturizzare, in questo caso, cos'è usato, l'Egoritmic Painter? Sì, Painter, sempre su Painter. Ormai lì utilizzo tutto. Anche questi dettagli qui, in realtà, sono proiettati su una normal map. In realtà non c'è nulla. Ah, quindi tu quei dettagli lì li avevi sull'iPoly? Sì, sull'iPoly. Ce l'avresti da far vedere l'iPoly, magari, di questo? Per far capire la differenza che c'è tra iPoly e l'oPoly, quello che abbiamo visto prima, quindi si vede ogni tanto illuminarsi la struttura poligonale e l'iPoly, da dove, attraverso il processo di bake, si trasferiscono i dettagli. Cioè, vengono proprio proiettati dall'altra risoluzione sulla bassa. Ma così per fare una mini spiegazione per chi magari non sa. È importante. Perché poi tra noi ci troviamo a parlare con termini estremamente tecnici, ma uno da fuori veramente pensa che... No, no, immagino, infatti. È allucinante. Magari uno parte. Dovrebbe essere questa la versione... Allora, aspetta, facciamo un nuovo documento che ZBrush ancora in questa fase. Vabbè, ok. Lo metto un attimo così. Allora, questa è la versione iPoly. Come vedete, la geometria è insensatamente alta. Ogni erruga è formata da poligoni. ed è la fase in cui l'iPoly io tendo a sfogarmi a livello creativo. Cioè, non mi interessa quanta densità geometrica. Io voglio che il risultato sia questo. Mi sono divertito qui... Questo è Polypaint. In realtà io qui ho semplicemente disegnato sulla geometria. Questo, bene o male, è quello che avevamo sull'iPoly. Mi ero fatto dei Polygroup per comodità. In realtà anche questi potete farne a meno. La fase di iPoly è la fase di divertimento. Vi dovete divertire. Quando voi lavorate in iPoly dovete divertirvi. Poi da qui si passa al Retopology che è un po' quella fase da Zen in cui voi andate a fare poligono per poligono sopra o su ZBrush o su Maya sopra l'iPoly e poi andate... Io utilizzo sempre Marmoset per riproiettare i dettagli. Non so se ho il progetto qui in modo da farvi vedere un po' il workflow però non credo. Tra l'altro è veramente bello vedere la disponibilità che hai nel far vedere qualsiasi cosa perché mi è capitato più volte di sentire parlare di chiedere informazioni ad altri artisti 3D collaboratori tutti quanti hai capito a fare le prime donne un po' nascondere i procedimenti. Quella è la mentalità più distruttiva per il settore. È una cosa è una cosa fantastica vedere. Il settore va avanti se tu condividi anche perché non hai inventato nulla non è che hai la formula unica quindi se non gliela dici tu alla persona che ti ha chiesto l'informazione ci arriverà comunque non è che è una cara quindi tanto vale condividere e e niente bene o male il mio processo è iniziare a scolpire qualcosa che vi piace in ZBrush però fregandovene della geometria anzi vi dico io addirittura ultimamente uso questo che praticamente vi distrugge tutto ciò che c'è di geometrico sotto ma vi adatta la geometria per avere il dettaglio che volete perché se non avete questo attivo lui seguirà sempre una una densità geometrica esatto adesso questo è talmente suddiviso che va bene comunque però vedete qua dei diciamo dei policoni mentre con questo attivo già è più divertente non dovete pensare assolutamente a nulla sotto quindi vi divertite a fare il micro dettaglio e una cosa che consiglio non perdete tempo in questa fase a fare i pori della pelle perché li andremo a mettere poi con le details normal map ovvero sono degli ulteriori normal map che sono tailate sono sì sono tailate sono espandibili scalabili e le andremo a mettere poi in in motore nel materiale finale quindi è inutile adesso qua perdevi a fare il macro dettaglio una volta fatto esportate la vostra geometria andate su su maia ripassate tutto diminuite tutta la densità geometrica non cercate di evitare questo io ho visto tanti mi presentavano questi personaggi lo z remesher perché va bene mi sento colpevole colpevole per i personaggi più che altro perché io pure per la surface a volte mi aiuto con questa cosa però a volte vi va ad esempio facciamo una prova se io adesso qui vado a fare una zata remesh a parte non avete un controllo totale della densità cioè a volte magari servono più poligoni sul viso piuttosto che sul corpo perché deve parlare ha bisogno di più deformazioni del viso però ecco ad esempio dice ho fatto ecco questa è la low poly ma qui esatto mi servivano dei loop qui se io vado fuori del loop guardate che giro fa questo è assurdo l'incubo non hai il controllo poi va bene se dovete fare un lavoro veloce via dicendo va benissimo se dovete fare anche se voi dovete passare questo lavoro a un rigger rigger vi sputa addosso alza le mani e quella è la cosa fa se ci potete mettere mani voi sopra vabbè siete voi a deciderlo non c'è mai una gogna totale questo è utile lo z3mash è utile però dipende dal contesto se voi dovete fare un test per entrare in uno studio dei videogiochi non presentate assolutamente questa cosa tanto vale che sforate di un giorno la consegna e fate una topologia fatta bene piuttosto che andare di fretta e fare queste cose alza la mano alza la mano una domanda e quindi adesso mi ha visto il super high poly fondamentalmente da cui si parte in cui ci si diverte perché è la cosa più bella io tra l'altro ultimamente mi fermo lì perché poi vado direttamente in stampa esatto esatto per la stampa va benissimo basta retopo e poi praticamente praticamente abbiamo visto la zona invece retopo mi fai rivedere il retopo fatto del gatto per far capire la differenza che c'era tra quella remesciata lì e invece questa situazione qua da qui vediamo se lo trovo e per fare il retopo hai imparato cioè è affinato per conto tuo di volta in volta portando avanti la cosa ci sei sì sì certo non ci sono corsi retopo ah no questa è Alice qui ho fatto il retopo appunto del vestito e via dicendo anche dei capelli in fascette nei miei lavori non troverete mai capelli in fibra perché appunto questa cosa dell'ottimizzazione e qui abbiamo tutta la geometria low poly sono 83.000 triangoli io non c'è cerco di non superare mai il limite per me è 100.000 triangoli per il character per il character certo sì sì se trovo il gatto sì anche perché stavamo guardando proprio il gatto qui sarebbe bello e sarà quello che mancherà tra l'altro ci deve essere per forza ah c'è il gatto ok allora qui ad esempio abbiamo i denti poi abbiamo a tutte le parti separate non ricordo neanche perché ecco full cut a posto eccolo qua non avrei detto che sarebbe stato così low poly ti giuro la soddisfazione che ho quando faccio la soddisfazione c'è rubito già remesh dico ah però guarda adesso vedo l'opo io non avrei detto che sarebbe stato così l'opo lì dicendo mi immagino sempre robe più complesse invece funziona da dio e funziona da dio veramente ed è quello l'obiettivo un po' che ho la semplicità ma con risultato finale un po' più complesso ecco vediamo proprio ho il rig che ho fatto per il quadrupede ma non mi sembra fosse così complesso semplicemente allora di nuovo ecco qui semplicemente fa questo no questo no questo sono su rotazioni poi hai la questione occhi anche tra l'altro perché qui questo è sempre fondamentale vedete quando fate un blend shape in realtà voi rotate questo ma prendete anche con una soft selection ad esempio dovete fare un blend shape qui con un volume ah no sono due cose separate va bene ok volevo far vedere praticamente bastava prendere questo loop con una soft selection e questi sono loop che girano non come prima esatto dove l'edge si perdeva nell'infinità dell'interno palato fino alla coda e rig mi fa alcuni vabbè automatismi tra virgolette si si poi ovviamente hai fatto quello che ti serviva per il filmato anche esattamente questo ne hai fatto per la consegna che ti eri prefisso in più poi per la presentazione per chiunque voglia presentare il proprio personaggio io perché mi diverto a fare queste cose di presentazione in realtà non è necessario aggiungere musica fare animazioni però logicamente più è accattivante la presentazione più avete possibilità di essere presi in considerazione da oppure di rendere di dare dignità al vostro personaggio perché io vedo personaggi finiti in t-post postati così fine ci sta io posso vedere come hai lavorato sul topology però non mi racconti infatti è proprio quello che volevo chiederti la questione è presentazione portfoglio che tu secondo me avevi delle idee interessantissime quindi vai a vai a mitragliatrice ok per me una delle cose più importanti come aspetta ogni mio lavoro cerco di farvi vedere un attimo su Artstation è la presentazione di ogni personaggio in realtà io ho cominciato a farlo da questo da Lulu non so se lo vedete perché vedevo che mettendolo in posa in realtà davo carattere al personaggio ok io qui posso far vedere ad esempio il discorso tecnico della topologia come vedi questo è uno zaino a quattro poligoni però magari qui vedi le pieghe vedi la zip dice ah devo modellare ogni cosa in realtà no lei ti devi divertire nei poli poi lo riproietti è il risultato alla fine però ecco un personaggio presentato con una posa del genere con un lighting da da più attenzione al chi è quel personaggio devi prima di tutto mostrare che quel personaggio è in grado di comunicare perché se tu mi dai un personaggio per un videogioco ma che non è in grado di comunicare lo vedo in tanti problemi tanti videogiochi anche a AAA ci sono questi personaggi inespressivi messi in gioco magari caratterizzati bene con una storia ma non sono in grado di comunicare lì è un po' il character artist che ha avuto un po' l'acqua alla gola credo non lo so oppure se vogliamo vedere tante cose che Artstation si sa perché mi ha messo a nascosto se noi andiamo su challenges possiamo vedere i primi contest a cui facevo parte e qui spiego tutto il workflow che avevo e sono andato completamente controcorrente ma mi sono divertito tantissimo perché i contest che davano Artstation era quello di prendere un concept dal contest 2D e poi farlo 3D quindi il 3D artist qui aveva semplicemente il compito di prendere un concept esistente e farlo 3D però per me a me personalmente questa cosa un po' uccideva perché a me piace creare un personaggio e dargli vita da da la alla z e quindi qui io mi sono disegnato da solo il concept prendendo delle reference spiegando poi a chi doveva giudicare tutti i dettagli e ho immaginato visto che comunque il contest era incentrato sul mondo su una civiltà subacquea questo Axolot che ripuliva le acque e quindi di per sé aveva fatto con tutti i rimasugli che trovava c'era del vestito l'armatura esatto quindi qua c'è un orologio qua c'è un orologio qua c'è un mezzo a bottiglia tappiti beh ma che figata la forchetta come la forchetta come arpione esatto e qui ecco questa è la fase che vi dicevo ho iniziato io a volte inizio con una Z-A-Sphere do questa sembianza di insieme al personaggio poi le unisco e comincio a scolpire e faccio il personaggio base su Z-Brush vedo che mi funziona su Z-Brush su tutte le angolazioni e proseguo ma è solo uno studio di materiali e di silhouette del personaggio però la faccia è quella che voleva quello che volevo mi sono aiutato con le fibre di Z-Brush che poi comunque non ho potuto mettere logicamente alla fine però qui ecco l'insieme è quello che deve funzionare da qui se io avanti mi sono divertito anche a creare il logo e sono passato come dicevo prima a Retopology è una presentazione proprio a tutto tondo sì qui me l'hanno nascosta devo metterla un po' più visibile su ArtStation perché secondo me è utile qui ecco inconsciamente la mia inesperienza mi ha portato a postare questa topologia ma si vede attraverso perché sono geometrie molto vicine quindi sembra c'è un casino ma in realtà sono oggetti dietro ma in realtà qui già ho fatto tutto il Retopology e messo creato un UB7 pensando di mettere un ulteriore personaggio ah bella questa cosa qua in effetti mi sono tenuto questo spazio per dei Minions ok qui faccio vedere un po' la geometria e ho trovato una soluzione per questa rete ovvero la rete mi sarebbe costata uno spazio V enorme per fare tutta la rete che ha intorno invece in realtà è solo dov'è la rete è solo questo qua questo spazio qua ah perché che ho fatto ho fatto un modulo che si ripete ripete esatto ah è un'opacità praticamente in realtà è geometrico ah è geometrico qui perfetto scusa ecco qui ho fatto il Retopology su ZBrush uuuuh uuuuh che sfido esatto e appunto lì ho preso la palla al balzo perché non sapevo come fare il Retopology su ZBrush e ho detto vabbè facciamolo dai così prendo due peccioni con una fava e qui c'è un po' la densità geometrica è praticamente invisibile tant'è che è fitta dall'iPoli all'oPoli qui in realtà mi sono andato a complicare la vita perché ho fatto dei giri che vedevo qui ma che non mi erano cioè non c'era bisogno di fare questi giri di geometria ma vabbè alla fine ho imparato e qui ho cercato di inserire il Minions su ZBrush come sempre si fa sempre una scultura ti devi divertire fare degli esperimenti e ho capito ok sì lo posso fare ho fatto Retopology di tutto questo è il texturing fatto su Substance Painter con la topologia qui visibile niente di che qui ho fatto il bake del Normal Map e questo era un po' il risultato su Suspense Painter che si avvicinava un po' alla presentazione finale qui l'ho rigato e ho provato a fare un'animazione su Maya e ho detto ok anche l'animazione deve avere carattere perché non posso cioè vi potete aiutare con il mock-up con Mixamo e quello che vi pare però dovete sempre personalizzare il tutto sapere dove andare a mettere in mano qui torna l'ABC l'ABC esatto e niente presto a poco il lavoro era finito così questo è il Minions sulla presentazione ho fatto questa fotobomb del Minion e in più alla fine ho detto sapete che vi dico ho fatto tutto questo che è un lavoro in cui mi ha stimolato anche perché sono uscito un po' dal mio stile ed ho creato alla fine il solito video video presentazione con spot di Youtube il video presentazione che alla fine è quello che ha attirato l'attenzione dal ai giudici logicamente non è tra i vincitori questo questo lavoro ma mi è servito tantissimo per imparare ecco questa è una presentazione che è oltre cioè non c'è bisogno di far vedere questo però divertitevi cioè vi dovete divertire fantastico veramente è un'enciclopedia di presentazione cioè è una presentazione lunghissima bellissima che parte proprio tra l'altro dall'ideazione di tutto quello che ci sta intorno al concept che era partito cioè io penso che sia una cosa che parla da solo ed esplora ogni singolo passaggio in maniera creativa con carattere veramente è quello e secondo me il segreto è divertirvi e avere curiosità sempre poi ecco nella presentazione se riuscite a far vedere robe tecniche è ancora meglio qui c'è ad esempio la densità geometrica eccetera eccetera però ecco è una cosa che mi piace anche associare il personaggio con la musica o un'animazione e mi dispiace a volte quando vedo persone brave postare questi personaggi magari anche ben fatti ma con fine tecnico e nasce e muore lì e quindi niente il mio messaggio per i nuovi arrivati è appunto divertitevi perché vi permette di divertirvi questo è un settore che vi permette di esprimervi a 360 gradi e soprattutto è condivisione è costante apprendimento delle tecniche è un settore che va costantemente avanti stare dietro alle innovazioni a volte magari è difficile però è divertente soprattutto se poi nascono queste community come Shortcut che vi permettono di di comunicare di esprimervi di far vedere quello che state facendo quindi per me è ancora più stimolante è completamente senza vergogna senza vergogna perché è una cosa non l'ho mai visto presentare un carattere in questa maniera qua veramente perché li vedo sempre anch'io sempre sul station vado a vedere queste cose questi stili bellissimi che vedi adesso iper complessi fantastici però sono abbastanza abbastanza statici cioè vedere tutto questo lavoro che c'è dietro questo dargli vita è veramente una cosa che se non c'hai voglia di farlo per imparare qualcosa per metterti alla prova ti ammazzi perché è favoloso comunque andare dall'A alla Z voi dovete tornare quando fate i personaggi ad esempio qui il contest era la civiltà antica io l'ho immaginato sull'era devoniana dove erano solo pesci però immagino che c'erano anche degli umani dovete immaginare quando fate un personaggio è un po' come quando tornate ragazzini e vi fate il vostro pupazzetto ok il vostro pupazzetto che sta lì fermo ci dovete giocare col pupazzetto vedo troppi collezionisti vi dovete divertire e vi assicuro che la sensazione poi al lavoro finito è a dir poco appagante perché vedete che ha preso vita e dite proprio questo l'ho fatto io non ci credo che l'ho fatto io perché quando vedete il lavoro finito vedete tutti i passaggi che avete fatto è bello è bello proprio è qualcosa di vostro è qualcosa di completo è qualcosa che comunica e vedere magari far vedere il vostro lavoro una persona non del settore e riuscite a far esprimere emozioni è quello è l'obiettivo per me personale finale è una delle cose ad esempio l'ultimo lavoro che hai visto per me è stato veramente devastante nel momento in cui io l'ho visto l'ho fatto vedere alla mia ragazza e si è commossa perché sa quello che ho passato e ci ho messo del mio dentro potete farle queste cose e una cosa che voglio dire non vi incentrate sui like ragazzi sui like dei social lasciateli perdere lasciateli perdere c'è il momento c'è il momento di tristezza sì posti e nessuno ti caga cioè avete il lavoro andiamo a cliccare tutti adesso basta una squadra di clic solo per tutto quello che vi ho detto oggi a me inizialmente dava molto cioè mi scoraggiava quando vedevo che non andava però quella è questione di pazienza se voi lavorate con il cuore più che con la mente i lavori vanno da soli questa cosa bellissima lavorare con il cuore non con la mente questa me la questa me la faccio sulla maglietta all'unica quando vado al lavoro guarda davanti e anche dietro così la macchina del caffè la gente in turno la tappa della macchinetta del caffè ascolta io volevo vedere volevo chiedere l'aiuto alla regia perché volevo capire se si potevano sbloccare magari le chat per eventualmente avere delle vedere se qualcuno vuole fare delle domande di quelli che ci hanno seguito fino adesso se volete è il momento di scrivere se volete scrivere se non volete sentire di farle ora non vi biasi ma ve le potete fare anche poi in post sul canale Shortcut quindi ad alzata di click ad alzata di maiuscola sulla chat chi vuole come volete ci sono domande popolo di Shortcut riproduco da picci bomboni no è un'unica domanda non capisco ogni tanto si anima c'è la dietro veramente è inquietante però tengo per quello picci bomboni da mi fa sempre a me una volta si è attivata di notte in completo silenzio si si è allucinante a volte dicevo ah ecco una domanda ok dunque i puntini di attesa si tipo il visualizzato di whatsapp i puntini di attesa e poi basta e basta fermi ok uno lui ok per un progetto allora come dicevo all'inizio il progetto personale non ho limiti di tempo ma me l'impongo diciamo che due mesi due mesi anche tre e il tempo ottimale per finire il tutto l'importante è pensarlo bene all'inizio e l'obiettivo finale che hai quello devi devi pensare per bene perché se non hai un obiettivo finale tu ti ritroverai poi a a perderti nel percorso pensare a quello che deve essere il personaggio quello che vuoi studiare e perdere tempo anzi investire tempo nel capire le cose che non conosci è quello più che altro poi il tempo che ci vuole per fare retopologi le ovvie scolpire quella è una cosa che varia varia da persona a persona non c'è un tempo limite se tu ci metti sei mesi non è che è sbagliato non c'è lo sbagliato in questo settore se stai facendo un tuo progetto però il mio consiglio è provare a metterti dei paletti perché altrimenti il lavoro ti darà la nausea dopo un po' e lì c'è il pericolo che il lavoro comincia ad essere un po' una presenza scontata nella tua vita non c'è più lo stimolo e lo lasci perdere quindi tanto vale concludere un lavoro che trovi imperfetto e lo pubblichi piuttosto che lasciarlo lì ad ascoltare e a rimuginarci sempre sopra perché poi ti scarichi proprio a livello di volontà io volevo tra l'altro aggiungere una cosa alla domanda del nostro collega del nostro compagno di avventura il primo cioè il concetto è tu adesso dici ci impiego metti tre mesi ok ma la prima volta che ne hai fatto uno ecco uno che dice parto che non so cos'è il retopo non so cos'è questo non so cos'è quell'altro quanto? allora il primo in realtà l'ultima cosa a cui dovete pensare è il tempo che ci mettete perché lì è costante sperimentazione all'epoca all'epoca comunque otto anni fa i tutorial che abbiamo oggi su youtube non c'erano le community c'erano ed erano veramente le cose meno permissive del mondo appena vi presentavate il vostro lavoro era sempre costantemente distrutto quindi diciamoci siamo fatti un po' la corazza per questa cosa io no perché ci ho sofferto tantissimo però il primo lavoro che fate anche un anno va bene cioè è sempre questione di quello che volete fare perché poi dipende perché non c'è è un po' difficile dirlo in realtà perché se fate environment se fate character il consiglio mio se fate character fate solo character non vi perdete a fare environment dietro ad esempio io dopo la rainbow non sapevo come funzionava il real time e quindi ho approfondito altre cose ho renderizzato io con Arnold all'inizio e mi ha preso dei tempi di renderizzazione lunghissimi perché la mia esperienza era quella che era ho fatto questa gli Olandi di Antwoord in realtà qui possiamo vedere questo è il risultato finale ma dopo un anno e passa credo anche perché adesso ad esempio sto preparando ho preparato le piccole zioncine su Arnold nel lavoro non usiamo Arnold e devo ammettere che a scanso di tutto ogni volta che tu affronti un materiale al di là della pesantezza del motore che è veramente tosto anche se non è sulla parte GPU però chissà che perché quando vuoi andare a pulire o vai di denoiser che sbrega tutto ma sbregare rompere in vento però comunque sia io vedo che anche a volte è una sorta di parto metto giù una texture poi alla fine dici ah aspetta no ma la mattonella così non mi piace e parti magari perdi completamente di vista il character di partenza perché ti ti perdi di voler definire cose da un altro mondo però ecco quando vedete questo che è il mio primo lavoro ci ha speso veramente ho fatto certe cagate ragazzi cioè sui character mettetevi in testa che all'inizio la roba che vi piace dopo un po' che la rivedete non andrà bene cioè dovete sperimentare io all'inizio addirittura renderizzavo con Keyshot e la differenza era cioè proprio a livello di di immagine di pasta dell'immagine però rivedendola ad esempio questa roba qui in realtà non ha retopology se voi vedete la geometria di questa roba o guardate qui il vestito super morbido non ha definizione ma l'ho lasciato perché è giusto che vi ricordiate gli errori che avete fatto in modo che poi vedete l'evoluzione questo era su ZBrush guardate qui qualcosa che col tempo adesso non farei mai questo questo muscolo così teso questa geometria poco definita mi piace tenere anche i lavori sporchi e non mi vergogno di farli vedere ad esempio questo era il primo viso che avevo fatto queste erano le sopracciglia per me questo andava bene qua sotto era scoppiato tutto ma va benissimo va benissimo cioè questo è stato un lavoro che mi ha fatto crescere e mi ha fatto conoscere i miei limiti perché dovete conoscere i vostri limiti e vi scontrerete sempre con questo concetto vedo aspetta che ti interrompo un attimo perché vedo che stanno fioccando le domande allora vedo Andrea ad esempio e voilà come hai realizzato il texturing di quello stile che mi piace molto quello un po' cartoon anche stile si avvicina un po' sì grazie un po' morbido morbidoso pizza questo sì allora guarda questo in realtà è il texturing più divertente che abbia mai fatto e se vuoi ti faccio vedere come l'ho realizzato proprio su suspense painter se vuoi qui o in privato su shortcut in realtà non è così complicato è semplicemente sapere dove mettere le linee perché il maggior numero cioè il lavoro migliore lo fa la la geometria cioè il lavoro migliore è cioè migliore il lavoro in realtà è come se fosse 2D perché tu vai a pintare come se fosse una statuina oppure un foglio di carta bianco e devi fare uno stile cartoon in realtà è 2D non c'è niente di non ci sa un trucco ecco quella cosa vi consiglio sui punti dove sporgono di più o dove c'è sta una una convex una geometria combessa una cavity map di mettere una lineetta semplicemente non è niente di di complicato in realtà e questo è un lavoro che mi è andato molto bene ma in realtà perché ho vinto facile perché è una fan art le fan art vanno sempre molto bene ed è il primo che ho realizzato con il sequencer su Unreal Engine 4 e non avevo il controllo della coral correction infatti è venuto totalmente giallo e qui c'è un errore anzi ne approfitto per farvi vedere l'errore che me l'ha fatto notare un un utente a parte l'animazione era molto macchinosa perché non era ancora in grado di animare in maniera un po' più fluida ma tuttora non sono bravissimo nell'animazione e qui c'è lo dici tu però per quello che serve funziona sì no esatto se vediamo qui io qui volevo fare vedere la geometria e qui mi si erano mergiati per questa animazione due vertici in realtà dovevano essere speculari qui c'è questo loop che è ben giù e qui mi sono mergiati passi qui fa questa roba strana però per uno con l'occhio tecnico è arrivato mi ha detto cosa è questa cagata mi ha distrutto perché in realtà la geometria del modello non era così nella presentazione mi si è rotta amen e anche qui c'è l'errore lo tengo vai tutti sbagliano ci sta guardate che poi lo sbaglio diventi anche un punto di partenza bisogna prenderlo proprio con filosofia anche l'osservazione dell'utente che va a migliorare con filosofia è sempre bella nel senso a me capita spesso di essere permaloso ad esempio quando uno viene a farmi notare qualcosa ed è bruttissima no vabbè ma ci sta ma con te capito sei così sorridente positivo ma dentro un po' muoio dentro un po' muoio poi c'è Giorgia che ci chiede quanto pensi siano validi utili e validi tutorial online come per esempio quelli su Artstation allora ho visto un po' di tutorial validi in realtà però vanno presi per quello che sono io consiglio sempre di seguire dei corsi se si parte da zero e anche lì state attenti a quali corsi perché ci sono corsi e corsi quindi magari prima ecco frequentate una community che vi presenti un po' come è l'ambiente e i tutorial che trovate in internet in realtà sono molto personali dell'artista stesso quindi magari c'è una persona che fa dei capelli a fascetti in un modo un'altra persona fa un altro qual è il più giusto non so quello che vi piace di più sono utili io l'ho presi alcuni semplicemente per capire qual era il metodo di quell'artista per fare quella cosa e in realtà la sensazione è stata come vi faccio un esempio una volta sono andato a via del corso e c'era a piazza del popolo questo mago da strada che faceva dei trucchi di magia e poi se tu gli devi 5 euro ti dava il kit e ti faceva vedere il trucco ecco la sensazione di delusione nel momento in cui ho comprato il trucco ed ho visto cos'era era è un po' la stessa cosa perché in realtà sono cose in cui se già avete dimestichezza ci potete arrivare con l'abc però vi da quella conferma è fatto così e anzi l'appagamento che ho avuto nel vedere quell'artista avere una soluzione così semplice mi ha fatto pensare ok non sto inventando nulla non sto nella strada sbagliata non sto facendo un percorso complicato non sono io che sto facendo delle cose accrocciate quindi è così anche che va bene quindi non lo so se c'è qualcosa in particolare che ti interessa prendilo valuta tu il costo logicamente dagli un'occhiata per studiare per avere un po' curiosità semplicemente quella io di solito ad esempio uso il trucchetto dello switchare avanti fino alla fine del video per vedere come vede fuori perché altrimenti vi faccio un'ora e mezza di tutorial per capire se sarà quello che voglio o non voglio e Andrea ci chiede invece per quanto riguarda le cards dei capelli fa X-Gen prima oppure direttamente con le cards allora io in realtà X-Gen non lo uso assolutamente utilizzo le cards mi sono fatto un pennello su ZBrush che prevede sono le mi piacerebbe vederlo sono le IMM cards IMM brush ovvero quello dove tu tracci una linea parte da inizio in mezzo e fine se volete poi vi faccio un tutorial è semplicissimo è veramente super semplice se puoi condividere noi perché così ve lo dico in parole è una fascetta che si allunga su una curva e questa fascetta ha un UV fissa io che succede alla fine ho un rettangolo nell'UV set un rettangolo che è questa fascetta dell'UV faccio tre varianti poi su Substance Painter ci pento direttamente non utilizzo alcun generatore di fibre o o cards le vado semplicemente a mettere con questi pennelli che mi son fatto ma semplicemente perché faccio cards anzi a volte le vado direttamente a mettere a mano ti metti lì di pazienza e fai le fascette vi consiglio di non fare per ogni fascetta un UV separata ma alcune sovrapposte perché in modo che se ne penti una le penti 40 è un po' una rogna quella cioè è una cosa di pazienza però dipende da quello che volete io a volte faccio un insieme di capelli poligonali come base poi sopra ci aggiungo delle fascette in modo che la silhouette ti permetta di avere dei capelli un po' più meno poligonali e vabbè sono sempre soluzioni che poi troverete voi ah grazie a Samson Sanz che fa i complimenti poi leggo che qual è il numero più fiero logicamente è l'ultimo perché c'è di mio ma quello di cui vado più fiero in realtà qual è sai che non lo so forse è questo di Lulu perché è stato il primo che mi ha fatto capire anzi no è questo che rappresenta un po' dei giorni è il mio inizio del viaggio nel mondo del real time in realtà sono io con il mio cane che fu e sono attrezzato con tutto ciò che riguarda il 3D dietro c'è il mostro del retopology quasi a direzione surfacing sono passato da modeling no è stato parecchio divertente questo questo è il lavoro per quanto adesso lo vedo dico è migliorabile però è quello a cui sono più affezionato questo comunque è veramente è veramente bello vedere anche tutta l'idea che c'è da me mi affascina tantissimo l'idea creativa che c'è dietro ogni character te ringrazio è quello su cui punto poi la realizzazione è sempre top interessantissima colori e quant'altro però l'idea che c'è dietro è quasi affascinante tanto se non di più del character nel senso che dici parte da questa idea del viaggio ecco una cosa appunto che mi fai pensare è che tanti vedo che si impuntano magari che ne so qui a fare il gamepad super dettagliato se è un vostro lavoro e volete comunicare qualcosa guardate l'insieme finale cioè dovete guardare proprio l'insieme semplicemente quello e non incentrarvi troppo su tecnicismi o cose dettagli che poi neanche andate a a inquadrare quindi poi vedo che c'è Giorgia fa un'altra domanda anche tra l'altro relativo alle texture per i modelli 3D quindi usare il texture painting per colorare direttamente sul modello oppure preferisci creare un UV map da incollare successivamente sul modello allora quando fai le texture per i modelli devo usare il texture painting per colorare direttamente allora io direttamente sul modello in realtà perché no sì non ho capito perché io utilizzo un metodo di di texturing che è parecchio basilari che è quello che ti presenta Substance Painter quindi paint direttamente sul modello direttamente sul modello però per alcuni casi soprattutto dove magari le geometrie sono molto vicine conviene direttamente sullo B o se dovete proiettare qualcosa spesso conviene sullo B set sì è quello entrambi i modi vanno bene sempre a seconda di quello che devi fare se vuoi fare il texturing ad esempio cartoon io consiglio di farlo direttamente sul modello perché quando painti sul modello la brasciata che dai si adatta alla geometria mentre se lo fai sulle UV a volte magari l'UV non è ben aperta e sul modello viene un po' più strecciata nemmeno controllo del del prodotto finale pentando sull'UV dipende quello che vuoi fare logicamente eh qui sono tutti i metodi che poi ma di che grazie a te Giorgio ognuno trova il proprio metodo è quella cosa poi magari puoi sentire il consiglio da una parte o dall'altra però tu devi trovare il tuo metodo quello che ti trovi più comoda e l'importante è raggiungere il risultato è quello sbagli puoi tornare indietro vai sì ok sì ok il procedurale è una cosa che mi affascina tantissimo attualmente lo uso semplicemente solo per le per i dettagli le details normal map ah ok ad esempio il personaggio che ho fatto vedere prima l'ultimo progetto l'indiana quanna ha le cose in pelle degli accessori in realtà non sono texturing classico ma è una detail normal map messa in unreal e mascherata sui bordi in modo che quando lo vedi da vicino noti la texturing esatto o anche la pelle ad esempio noti i pori della pelle o la texture del dettaglio del marsupio mascherato in alcuni punti in texturing questa cosa magari è un po' più difficile perché hai più controllo paradossalmente con dei valori in unreal dove puoi scalarli con la proceduralità della texture piuttosto che su una cosa che vai a pentare magari non va bene devi andare a correggere a mano non l'ho approfondito più di tanto ad esempio substance designer perché semplicemente non non ho ancora fatto quel progetto che mi permetta di fare cose procedurali di solito si usa in environment quello utilissimo quando devi fare dei terreni con diversi layer dal bagnato alla terra all'erba quello è un settore che anche se fate character cosa che io ancora non ho fatto però vi consiglio di dargli un'occhiata soprattutto per quanto riguarda i vestiti è molto utile molto molto utile tra l'altro perché per quanto riguarda i pori della pelle immagino che una detail normal alla fine tu abbia una sorta di pattern con micropori giusto? pertanto andando tu a sfumare i bordi alla fine il problema è che già devi sapere più o meno il tile che avrai perché se tu lo tigli tanto anche in Unreal poi alla fine l'effetto sarà quello di un pattern ripetuto con delle piccole linee quindi non è facile da gestire anche la maschera a volte deve essere procedurale la maschera stessa è affascinante parecchio la cosa del procedurale però per quanto mi riguarda attualmente ancora non l'ho approfondito più so farlo su l'ho integrato su Substance Painter su Painter lo sto usando ma è un qualcosa che nasce e muore dentro il software di texturing e finisce lì ecco quindi niente è questo io qua non vedo in questo momento tra l'altro non ci sono altre domande a livello di di chat mi sembra è stato esplicativo al massimo cioè proprio li abbiamo risolti ecco poi il fatto di texturing si presta molto al bake di tante mappe e quello è un passaggio importantissimo oltre il normal map l'occlusion che può essere usato come maschera per questi tipi di texture ad esempio che ne so se vuoi la texture della ragness ovvero quante luci da una superficie automaticamente puoi utilizzare la maschera dell'occlusion per smorzare la ragness dove ad esempio all'interno del naso tra naso e guancia lì di solito c'è occlusion e conviene spengere un po' la ragness l'ammezzo perché esatto l'ammezzo perché a parte che la pelle è meno grassa diciamo ma se tu gli punti una spotlight non riesci a leggere un volume l'ammezzo quindi è meglio spengerla è meglio che lavori dove lavora la ragness dove lavora l'occlusion non deve lavorare la ragness è più leggibile questo ad esempio è una cosa molto interessante è un bel trick questo qui aspetta l'attimo che lo ripeto mentalmente dove lavora l'occlusion non lavora la roughness ok quindi sarà più incisiva meno spalmata la riflessione della luce quindi meno luce in quel punto perfetto perché la roughness più alta spalma maggiore ovviamente o se riesci a fare o se riesci a fare il break della cavity la metti in moltiplicazione sulla occlusion e va a accentuare ancora di più questa cosa quindi sulle rughe ad esempio una ruga all'interno della ruga tu non hai bisogno di vedere una riflessione là dentro anzi ti fa strano se la vedi questo trick magari ti automatizza in qualche modo questa cosa e quindi semplificata la cosa in termini di illustrazione con Dwight hai fatto la stessa cosa segnando con una riga nera la questione diffusa quindi in realtà c'è sempre un processo mentale per cui devo raggiungere questo e a seconda del programma lo faccio così 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 e a seconda del workflow così 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 e lo adatto però è bello esatto no è bello e anche appagante nel momento in cui il tuo workflow ti permette di avere degli tra virgolette automatismi che tanto sai che il tuo stile funziona così vai di base così e già incominci a texturizzare con qualcosa che è già bello già si avvicina molto a quello che ti serve anche anche la diffuse stessa se tu devi fare un hand paint la cosa della cavity ti può aiutare parecchio la metti sul diffuse già ti scurisce le parti più scure via dicendo e niente di trick sono trick uno dietro l'altro che tra l'altro potete chiedere potete scomodarvi a chiedere postate anche sulla chat generale e quant'altro invece io a questo punto visto che comincio a sentire una necessità fisica di cibare di cibare io ti voglio ringraziare tantissimo per quello che hai fatto se non ci sono altre domande perché se ne fossero altre eccola eccola Andrea grazie a voi davvero ma va ma figurati grazie a voi mi stimolate tantissimo cioè veramente questo di cui ho bisogno una community così è per noi è uno stimolo a crescere perché ovviamente si cerca sempre ma perché mi conosce non ho la luce pro tra l'altro di Paolo stavo guardando e dico devo copiarla anche io questa cosa perché è veramente troppo sì è una lampada da 5 euro stavo cercando prima col cellulare di fare tipo la global cyberpunk capito riflessa ma non funzionava ho detto mollo lì ecco grazie mille di tutto allora se non ci sono domande neanche dalla regia la regia grazie a voi certo certo grazie a voi invece grazie a voi di tutto è stato bene per me essere qua e parlare con voi e condividere la cosa migliore che ci sia se non ha tempo questa cosa è favolosa favolosa grazie grazie a voi spero di vedere i lavori della community e di fare qualche progetto insieme più avanti a questo punto perché ormai la mentalità c'è stupendo sarebbe stupendo tra l'altro c'è il contest di cyberpunk che sta proseguendo quindi vedremo se magari c'era qualche post dai da cercare da vedere da cui ispirarsi ok grazie a tutti grazie alla prossima ciao 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 ciao